Alessandro Bisozzi, oggi presentiamo questo libro sui campioni, la storia del pugilato ciechese dall'inizio del Novecento fino agli anni Settanta. Cosa dobbiamo ricordare di tutto questo periodo? Allora, hai detto proprio bene, dall'inizio del Novecento, cioè da Carlo Saraudi, fino alla fine della carriera di Vascolino Morbidelli, 1978. Perché fino al 1978? Perché mi sono occupato fino a quel periodo? Perché dal 1978 in poi accade qualcosa che non era mai accaduto prima nella storia del pugilato civile vecchiese. Accade che Civile Vecchia per la prima volta, pensa, dal 1925, da quando Carlo Saraudi debutta dai professionisti e diventa il primo pugile civile vecchiese professionista, accade che Civile Vecchia rimane orfana di pugili professionisti in attività. Quindi rimane orfana anche per un periodo piuttosto lungo, perché bisogna aspettare il 1988, prima che arrivino sulla scena del pugilato professionistico nazionale, due altri pugili civile vecchiesi. Quindi tu mi dicevi che cosa bisogna ricordare di questo periodo? Beh, il libro è la raccolta, diciamo così, delle migliori imprese, delle più famose imprese, quelle di cui ancora Civile Vecchia ogni tanto se ne parla. Chi avrà il piacere di leggerlo, spero, tante persone, spero soprattutto i più giovani, scopriranno che il pugilato civile vecchiese effettivamente arriva da molto lontano, dal sud d'Inghilterra, perché arrivavano tantissime navi carbonieri a Civile Vecchia. In Inghilterra già il pugilato moderno, quello rimodernato, era già praticato da tantissimi anni. Arrivano anche tantissime navi dall'America, l'America che è stata per tutti i pugili in attività a Civile Vecchia. Come possono i nostri direi spettatori acquistare il libro? Allora, il libro è in vendita presso le librerie di Civile Vecchia, gallerie del libro, librerie dei dettagli e così via, ma anche nelle più fornite edicole, quindi è una distribuzione abbastanza capillare, solo esclusivamente per il momento, perché il libro è appena uscito, solo esclusivamente a Civile Vecchia. Naturalmente per chi non abitasse a Civile Vecchia, per chi abitasse eventualmente fuori, il libro è anche acquistabile sui siti di Ebay e Amazon.